in prima visione tv questa sera domenica 24 maggio 2015 su canali 5 ci attende un nuovo appuntamento con la seconda stagione del segreto al centro della trama ancora tristan il quale ha finalmente scoperto la reale identità di giacinta con lei che credeva essere sua figlia ecco le nostre anticipazioni aurora aiuta una donna a partorire tristan mentre l'assiste rivede in lei l'amata peppa dopo il parto cerca un riavvicinamento ma aurora lo respinge poi la ragazza riceve da don pablo la sua prima paga per aver fatto partorire la donna come segno di gratitudine aurora decide di donare il denaro a candela anche per ringraziarla di tutto quello che ha fatto per lei fernando nel frattempo spiega a gonzalo di essere stato lui ad intercedere in suo favore con donna francesca affinché ottenesse il permesso di lavorare le terre in cambio il giovane mesia gli chiede di stare alla larga da sua moglie maria ma gonzalo gli confessa di essere ancora innamorato di lei la ragazza intanto continua a litigare con francesca e fernando perché non le permettono di vedere gonzalo emilia ed alfonsino invece sono introvabili alfonso e raimundo continuano a cercarli ma senza fortuna anche se fa di tutto per non darlo a vedere alfonso è molto preoccupato per le sorti di sua moglie al punto da chiedere in prestito francesca la sua auto per andarla a cercare nei paesi vicini annibal e rita infine hanno deciso di anticipare il loro matrimonio una scelta che non convince troppo mariana e donna anselmo a